Un car saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per venerdì 26 novembre. La perturbazione atlantica giunta sull'Italia col suo vortice ad ovest della Sardegna sposterà questo vortice sul nord Italia, quindi dando luogo ancora a piogge su quasi tutta l'Italia. Piogge in particolare sulla regione centrale, su quelle tirreniche e sulle isole maggiori. Piogge che saranno abbondanti sulla campagna, debole nevicate sulle Alpi centro-orientali con accumulo inferiore a 10 centimetri a quota intorno a 800 millimetri. Massima in lieve rialzo 10-12 gradi al centro-nord della regione tirreniche, 16-18 al sud e sulla Sardegna.